è una delle aree storiche più belle di tutta Fano racchiude in pochi metri con i suoi monumenti la romanità ed il periodo medioevale fanese nonché da lì parte una delle strade romane più famose la flaminia avete capito bene per affanesi e non stiamo parlando del pincio nel cuore di tanti che ci hanno passato momenti indimenticabili della loro infanzia e del carnevale vista la visuale di cui si gode da quel punto ne parliamo perché da molto tempo le pietre del pincio e di suoi giardini urlano di dolore e gridano vendetta per essere da innumerevole tempo sotto scacco del degrado di spacciatori di clochard e di tutti coloro che non avendo di meglio da fare e godendo di indisturbata invisibilità utilizzano la sua splendida terrazza come una pattumiera un bivacco una latrina l'ultimo episodio della serie pochi giorni fa turisti stranieri in visita al sito si sono loro malgrado trovati di fronte ad uno spettacolo sconcertante è successo venerdì scorso sono venuta in occasione di una visita ai baluardi difensivi della città di Fano e ho portato una ventina di persone a vedere questo bellissimo bastione di Matteo Nuti e ci siamo ritrovati di fronte a queste belle iscritte che inneggiano un pochino anche con parole non proprio corrette comunque al di là di tutto un bastione del 1464 rovinato da queste iscritte è un peccato penso che forse i fanesi e nonna hanno perso l'abitudine a venire in questo posto quindi magari lasciandolo un pochino così in disparte forse qualcun altro si è appropriato di questo di questo spazio direi che sarebbe necessario ripulire prima primo luogo e poi ecco riproparsi di questo spazio che è bellissimo di fronte alle mura romane accanto alla porta maggiore con un bastione progettato da come dicevo da Matteo Nuti che per quei tempi era tanto in nome molto innovativo quindi uno spazio da da vivere da vivere bene e tutte le mura del perimetro interno della terrazza del Pincio sono completamente ricoperte da scritte fatte con bombolette spray non c'è un metro libero venite e constatate voi stessi che scempio si è potuto perpretare qui al Pincio bene Grazie a tutti.